Soltanto vorrei dirvi una statistica ufficiale dei primi quattro mesi di quest'anno, che non parla della pandemia del coronavirus, ne parla di un'altra. Nei primi quattro mesi di quest'anno sono morti 3 milioni e 700 mila persone di fame. C'è la pandemia della fame. In quattro mesi quasi quattro milioni di persone.